Cosa abbiamo qui? Boiler, questo signor dredge sarà la fine per tutti noi. Oggi si aggirava per la borsa facendo un po' troppe domande sulla banca. Se dovesse scoprire il piano, ti accadrà di peggio che perdere il lavoro. Firmato, Plutus. Così Plutus è il banchiere di Starring. Dunque dredge mi porterà da lui. Mentre sei in giro, evita di distruggere la medicina moderna o la rete di trasporti di Londra. Non farmi ridere. Ci sono vite in gioco che dipendono da questa città. Non ho lasciato io, Lucy torna libera. Un errore a cui intendo rimediare subito. Una lettera. Per me. Sangue sugli omnibus! Ne prendo uno. A voi, signore... Io dico basta con questa generosità verso gli stranieri. E pensiamo ai veri bisogni di Londra. Una guida sicura. Che si impegna a condurci tutti al successo. Funziona sempre nelle aziende. Così va il mondo. Ehi! Tu, feccia! Travati un lavoro! Le migliori guardie sul mercato. Il signor dredge è proprio nei guai. Il signor dredge è proprio nei guai. Scusate? Voi fate affari con la banca? Non c'è un diavolo! Non ho speranza! Continua a camminare il senso. Non questo? Voi покупare il senso. Spendai! Voi! Grazie a tutti. sta lontano da me non mi serve a una scusa non mi serve a una scusa Jacob, sono io, il sergente Aberline Freddy Frederick, sotto copertura ci sarà una rapina alla banca d'Inghilterra ne sono certo rapina? è una fortezza sì, i ragazzi in centrale credevano scherzassi ma non sarà divertente per i correntisti chi c'è dietro? è confidenziale oh, forza Freddy, ti aiuterò immagina i titoli ladri colti sul fatto Aberline aveva ragione dall'inizio beh, forse posso darti un indizio ogni trimestre rapinano una filiale della banca mai la stessa i ladri vengono riforniti dai mercanti di Cocam grazie della dritta, Freddy è Frederick! e sappi che ti tengo gli occhi addosso la London General Omnibus Company riporta...